Però mi permette, è un dato obiettivo che queste persone, nella grandissima parte dei casi, scappano dalla povertà e dalla fame. E sensibilità cristiana non vorrebbe un atteggiamento diverso, di accoglienza, di aiuto? Inevitabilmente noi dobbiamo dire che più di un miliardo di africani sono in condizione di sofferenza per causa di natura economica, perché hanno un reddito pro capite assolutamente insostenibile. La soluzione è portare un miliardo di africani in Italia, è impraticabile. Una percentuale del 10% è impraticabile. Ripeto, torniamo a Papa Francesco, vediamo il ragionamento di un uomo che fa i ragionamenti del buonsenso e dice che si può fare quello che si può fare, ciò che è sostenibile, l'insostenibile, diventa violenza per le persone che migrano e per le persone che sono nelle condizioni per subire la migrazione. Monica Rubino. Allora, nel vostro programma voi parlate di abolire la legge sulle unioni civili, abolire il Biotestamento e anche se accenna all'aborto. Commetto che non le piace il nostro programma, ho così un'impressione a pelle. Come dire, io lavoro in un giornale che ha combattuto a favore di tutte le battaglie che lei invece osteggia, quindi mi sembra il minimo. Ma le chiedo, lei se entrasse in Parlamento sarebbe disposto anche a raccogliere firme per referendum popolari sui diritti, per abrogare questi diritti? Ma è molto diverso. Noi entriamo in Parlamento superando lo sbarramento del 3%, perché siamo l'unica opzione programmatica che pone quei temi in termini di abrogazione di quelle leggi e dunque chiediamo esplicitamente il voto su questa opzione programmatica. Nessuna altra forza politica ha il coraggio di dire che quelle leggi vanno abrogate, sono leggi sbagliate. Nei Family Day c'erano dei cartelli grandi così che dicono sbagliato è sbagliato. Puoi farlo diventare legge, ma sbagliato resta sbagliato. E la nostra opzione politica è entrare in Parlamento con i parlamentari numericamente decisivi per la costruzione di una maggioranza non di larga intese e dunque politicamente orientata e condizionarla ponendo come elemento politico programmatico condizionante per la costruzione della maggioranza la cancellazione di quelle norme. Altrimenti noi la maggioranza di governo non la facciamo. Per questo il punto fondamentale oggi è per chi crede che sia necessario cambiare quelle leggi cancellandole l'unica scelta è votare il popolo della famiglia. Chi ha scelta invece di dire va bene queste leggi ormai ci sono, vanno bene così, teniamocele può votare per tutti gli altri 22 simboli sulla scheda. Ma chi pensa che quelle leggi vadano abrogate ha una sola opzione possibile. Popolo della famiglia il 4 mazzo.